Sono Ref Alessandro, sono vent'anni che faccio il pizzaiolo, ho una pizzeria insieme a mio fratello a Brescia e niente, ho portato oggi una pizza in pala, quindi un impasto indiretto, oggi con farina 00, ho aggiunto del lievito madresicato e gli ingredienti sono stracciatella, pesto di zucchine e pomodorino pacchino. La pasta mi piace, la pasta madresicata per ridurre, secondo me da una digeribilità migliore dell'impasto. Il pesto che faccio io a casa è il pesto che faccio io a casa. La scelta della farina 00, perché? Perché dopo, ancora meno con i clienti, alcuni clienti quando inizio a far usare farina un po' raffinata e non tutti, mi piace quei sapori un po' rustici, allora principalmente usiamo la farina 00, dopo abbiamo degli impasti un po' particolari. Grazie. Grazie.